L'amministrazione Coppola ha approvato il PUC, il Piano Urbanistico Comunale della città di Agropoli. Ieri mattina si è svolto il Consiglio Comunale che ha portato alla definitiva approvazione dello strumento urbanistico. Va a sostituire il piano di fabbricazione vigente, datato 1972. Piena soddisfazione del Sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. È andata benissimo, finalmente la città di Agropoli si è munita di uno strumento urbanistico. Tutti noi sappiamo che dal 1972 la città di Agropoli con un piano di fabbricazione è andata avanti. Era insopportabile portare avanti questa modalità. La città aveva bisogno di uno strumento urbanistico. Quest'amministrazione Coppola è riuscita a compiere il miracolo. Io lo chiamo miracolo perché per le difficoltà normative, legislative e interpretative che uno strumento urbanistico oggi porta a tutte le difficoltà del caso. Noi ci siamo riusciti, è un progetto che è nato nel 2007 e dopo circa 13 anni nel primo programma della prima amministrazione Alfieri vi era riportato proprio come punto del programma l'approvazione del PUC, del piano urbanistico comunale. Oggi dopo 13 anni l'amministrazione Coppola è riuscita ad approvare questo strumento fondamentale per la città, per tutto quello che è una pianificazione e una programmazione futura della città. Come diceva il professore Mocce, che ringrazio il redattore del PUC, fondamentale è attrarre con il piano attuativo che andrà a sviluppare poi il piano strutturale che divide il PUC in due componenti, la possibilità di pianificare e programmare e progettualità che daranno modo alla città di Agropoli di concorrere ai finanziamenti dei recovery fund e dei recovery plan che prossimamente la nostra nazione Italia sarà assegnataria di un incendio somma comunitaria. Questo deve essere un punto di partenza importante per rilanciare le attività nella nostra città. Ci auguriamo veramente che i comparti prendano subito vita, che nuove unità abitative vengono costruite, che si rimette in moto quindi in generale l'economia, seguendo però delle indicazioni che vanno certamente verso il miglioramento dell'abitato, il rispetto di quello che va conservato e preservato e quindi questa doppia logica di rispetto totale delle aree di pregio e di implementazione delle nuove aree urbanistiche per la crescita della città, seguendo questi due binari che sono fondamentali, farli crescere insieme e quindi preservare quello che di bello già c'è e implementare la costruzione di quello che deve essere fatto e in più riqualificare le aree della città oggi che sono un po' degradate. Ecco, questo è certamente una bellissima prospettiva che ci voleva in un momento anche così difficile, perché non dimentichiamo il periodo difficile che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno e quale è un momento di rilancio migliore che non l'approvazione di un strumento urbanistico così importante. Quali saranno le zone prettamente industriali della città di Agropoli con questo nuovo pub? Sì, ci sono le aree che sono già nate, la località Mattina e la località Managenia sono le aree di espansione strettamente industriale, ma di grande interesse io credo è anche quello di implementazione di carattere turistico. tantissime sono le aree nella fase di riqualificazione e di nuova espansione turistica che potranno essere realizzate, sappiamo che Agropoli è una città che deve fare del turismo, naturalmente il suo punto di forza e quindi con l'approvazione di questo strumento potranno essere implementate nuove strutture che devono rafforzare l'impianto turistico della nostra città. Insieme a questo c'è anche la crescita grazie ai combatti edificativi di rilancio di aree di periferia come la qualità Frascinelle, qualità Fondi che vedono nuovi combatti edificatori crescere e nascere in modo da completare anche il disegno della città.